Ben ritrovati in diretta con un nuovo appuntamento con Buongiorno Dottore. Allora, io per cominciare vado subito a ricordarvi i contatti per intervenire in diretta nella nostra trasmissione, il numero di linea fissa per telefonare, per proporre un dubbio, un parere, un quesito medico e, come vedete, anche in sovrimpressione lo 011 060 0643. Vi ricordiamo anche il numero per mandare sms o whatsapp che è il 331 44 80 522. Dovremmo, e dico dovremmo, avere in videocollegamento lo Torino Laringoiatra dell'ospedale Molinette di Torino, il dottor Massimo Capricci, a cui vado a fare il benvenuto. Vediamo se abbiamo in collegamento il dottor Capricci. Non c'è? Mi fanno cenno di no. Allora, per cominciare un po' di notizie. In attesa di ricollegarci con il nostro Torino, che come sapete, tra l'altro, non abbiamo avuto per diverse settimane a causa di una grave polmonite Covid e ci ha raccontato anche quello che ha vissuto. Tutti ricorderete quei momenti molto toccanti. Adesso con lui, pian piano, mentre il nostro dottore recupera di volta in volta la forma, ben 22 kg, aveva perso, l'ha raccontato lui stesso, questo anche per capire cosa significhi ammalarsi di Covid-19. Ebbene, man mano di volta in volta ci facciamo anche spiegare, diciamo, proviamo a capire qual è la sua posizione nei confronti dell'evoluzione, dell'evolversi dell'epidemia di Covid. Numeri in Italia generalmente positivi, ma con qualche eccezione. Io direi in attesa di collegarci con il dottor Massimo Capricci, partiamo proprio da questo. Qui, per esempio, siamo sulla prima pagina del Corriere con tante notizie dedicate al Covid, perché purtroppo, parlando di Italia, perché poi nel mondo la situazione, come sappiamo, è peggiore, specialmente in India, ma magari ne parleremo, ci sono dei focolai in Italia. Questa sicuramente non è una bella notizia, purtroppo un po' ce lo si aspettava. Qui si parla di Bologna, poi ne abbiamo altri, anche la regia, lo vediamo assieme alla regia. Più di 40 positivi alla Bartolini, ditta di trasporti. L'azienda è rimasta attiva e si è attrezzata per testa a tappeto. Questo ricorda l'articolo del Corriere. Siamo dunque a Bologna, oltre 40 positivi, chiusi soltanto a scopo precauzionale i magazzini. Qualche giorno fa i due casi di positività, esattamente due magazzinieri. Ovviamente poi, come è successo in questi mesi di Commivid, il virus si è propagato. Quindi ci sono, e questa è la brutta notizia, nuovi focolai. Per concludere, dicevamo, sono stati effettuati testa a tappeto sui dipendenti. Al momento sono 44 i dipendenti positivi, uno solo con sintomi, tutti gli altri asintomatici. Abbiamo intanto il dottor Massimo Capricci. Allora vado a fargli il ben ritrovato. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, eccoci qua. Molto bene, la sentiamo perfettamente. Intanto mi dica dov'è che è una bellissima libreria multimediale, oserei dire, e dove trappela anche il suo amore calcistico, vedo, dottor Capricci. Ah, sì. C'è la Juve, c'è la foto di mio figlio dal Bar Canova con me. Sì, sì. E c'è la libreria. Sono a casa. Abbiamo visto anche il tetto, ma va bene, TV verità è perfetto. Sì, è caduto il cellulare. Allora, no. Vi faccio vedere i libri che ci sono qua dietro, perché sono i libri, il genere che preferisco io. E' il thriller, quindi, ah, non tutti piacciono. Sì, sarebbe curioso anche conoscere, dopo così tanti anni, un po' i gusti e gli interessi del dottor Massimo Capricci, magari un'altra volta, o perché no, a inizio, a fine trasmissione, se ci avanzeranno i minuti. Senta, dottor Capricci, allora, vedo che è a casa, immagino, naturalmente, e prosegue la sua riabilitazione. Dico bene? Sì, sì. E sono andato ancora oggi all'Iso Kinetic, perché sto facendo tanta fisioterapia, e oltretutto oggi ho iniziato la Green Room, che è un'apparecchiatura eccezionale, una stanza dove ci sono diverse telecamere che proiettano la mia immagine su un grosso schermo, per cui, se ci sono degli errori nella postura, lì mi dà le regolazioni attraverso dei vettori colorati. frecce verdi se va tutto bene, frecce rosse o frustate se va tutto male, insomma. Frustate vere, spero di no. Vabbè. No. Ecco, questa è la Green Room. Tosto e tosto comunque. Non saranno frustate. Questa è la Green Room, laggiù c'è lo schermo, dietro l'istruttore. Ecco, io ero sopra questa pedana, che poi è eccezionale, perché ci sono tutte queste telecamere che proiettano l'immagine e quindi correggono la postura. Come va? E poi ho fatto degli esercizi di peso. Mi ha letto nel... Anche perché è vero? No, mi ha letto nel pensiero, sto per chiederle esattamente quello. Che cosa? No, sul peso. Vedo, mi pare che stia recuperando bene adesso. Sì, infatti ho sentito, perché ero già collegato, ma non avevate la mia immagine, per cui ho sentito che aveva detto, infatti è vero, ho perso 22 kg, da 84 che ero sono arrivato a 62, adesso sono arrivato a 80, sono riuscito a recuperarli e il dottor Tencone dell'isochinete mi ha detto di non superare gli 80-81, proprio per il discorso delle articolazioni, perché i muscoli si stanno riattivando, però iniziano a vedersi, però sono ancora molli. e mi ha detto che ci vorranno 5-6 mesi per acquistare il tono giusto. Tanto dicevo, io gli anticipo nel caso, senta, se no io ripeto dopo, quello che è il tema, perché i dati generali sono buoni, ma essendoci nuovi i focolai, già conosciamo la posizione del dottor Capricci, voleva un po' sapere cosa ne pensava e un po' temiamo di sentire il commento del dottor Capricci, ma giustamente è anche vero che bisogna continuare assolutamente a essere prudenti e a rispettare tutte le regole. Allora, abbiamo intanto una telefonata, speriamo che il dottore possa sentirla. Pronto? Pronto? Buongiorno, come si chiama, da dove chiama? Chiamo da Torino, mi chiamo Maria. Buongiorno Maria, se può per favore abbassare a zero l'audio del televisore, completamente a zero, e fare la domanda dal telefono, Maria. Grazie. Allora, siccome io ho un fruscio nell'orecchio, e sono andata dall'Ottorino, e mi ha dato Bjornil, ha detto di mettere due gocce nel naso per tre volte al giorno, per sei giorni, però sono già passati cinque giorni, ma io ho sempre questo castiglio nell'orecchio, una cosa incredibile. volevo sapere se lei, perché io sono una sua paziente, però adesso lei non c'è, anzi le faccio gli auguri, allora mi sono leccata da un'altra parte. Allora, grazie signora Maria, non so se il dottor Capricci ha sentito la domanda della signora, no, allora la teniamo lì, appena abbiamo ripristinato il collegamento, il video collegamento con l'Ottorino e la ringoiatra dottor Massimo Capricci, poi signora stia con noi che poi sottoporremo il suo quesito al dottor Capricci, poi piuttosto se manca qualcosa magari può, in questo caso è autorizzata a richiamare o magari mandare un messaggio per specificare. Allora, io sento dei rumori, non so se abbiamo il dottor Capricci. Siamo collegati, io lo sento. Mi sente dottore? Sento bene, sì. Bene, allora non credo abbia sentito la domanda della signora Maria, tra l'altro sua paziente, ok, allora spero di dire correttamente, la signora ha un fruscio nelle orecchie e gli è stato prescritto una medicinale che sinceramente non ho capito benin, bonin, un nome del genere, circa tre volte al giorno, due gocce tre volte al giorno mi pare, dopo un po' di giorni il fruscio è esattamente uguale e quindi si chiedeva. Ma gocce da mettere nell'orecchio? Credo di sì, ma magari invitiamo la signora a richiamare, forse non aveva specificato. perché sono degli acufeni però, ma è stata visitata o gliel'è stato prescritto così? Perché magari le gocce nell'orecchio gliel'hanno consigliate perché c'è un tappo di cerume, questo non lo so. Lei è partita da frusci nelle orecchie. Allora facciamo così, magari la signora Maria può richiamare o mandare un messaggio. Intanto abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Auguri dottore, è ritornato, mi fa piacere. grazie, buongiorno. Mi ascolti dottore, ho fatto, come avevo spesso dei giramenti di testa, l'avevo chiamato un 15 giorni fa che gli ho detto che sono andato da un osteopeta e che purtroppo ho peggiorato la situazione dei miei problemi che ho parlato proprio con lei. Niente, della mia iniziativa a pagamento sono andata a fare questo esame qua. Esami seguiti dalla protezione standard e dinamiche. Ridotto la lordis cervicale. non segni Rx di spondilolistesi, cervichi atrosi con onco atrosi, discopatia G4, G5, 5, 6, 6 e 7, atrofia ossea. Io ho sempre dolore di testa, giramento di testa e vado avanti con l'EvoPride. Volevo sapere per quanto tempo io l'ascolto per la televisione così l'ascolto bene. Per tutta la vita nel senso che... Cosa posso fare per questo collo e per quanto tempo posso adoperare l'EvoPride senza avere contraindicazioni? L'EvoPride a cicli lo può usare anche tutta la... Sì, a cicli lo può usare tutta la vita. Grazie, sono Mirella di Alessandria. Sì signora, ma adesso mi lasci rispondere se no non riusciamo più a capirci. Allora, dicevo, ha un grosso quadro di artrosi cervicale con dei seri problemi a livello delle ultime tre vertebre cervicali. C4, C5, C6, C7, le ultime quattro. Quindi è importante anche, oltre a prendere l'EvoPride che è un ottimo prodotto, deve cercare di migliorare la postura del collo, soprattutto e delle spalle e a questo punto sarebbe importante fare della fisioterapia. Fisioterapia e eventualmente anche il nuoto, ma appoggiarsi a un centro di fisioterapia perché innanzitutto è ridotta la lordosi. Cosa vuol dire? Come la regia giustamente ha messo la foto? La colonna vertebrale deve avere una curva rivolta verso la parte anteriore, quindi messo così e in questa zona qua. Il collo, la colonna vertebrale deve fare questa curva. Quando è ridotta questa curva, questa lordosi, la curva può diventare un rettilineo, quindi il peso della testa grava su tutte le vertebre del collo e quindi dà problemi di dolori, vertigini in base alle posizioni e poi c'è un problema già serio di dischi schiacciati, di dischi intervertebrali. Quindi è importante che lei rinforzi molto i muscoli del collo evitando degli sforzi, quindi attenzione alle borse della spesa, la borsetta con se la tiene a tracolla e così via. E poi è importante appoggiarsi a un centro di fisioterapia o privatamente oppure con la mutua, però deve fare degli esercizi perché è fondamentale rinforzare la muscolatura del collo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io sono una paziente del dottor Patrici. Sono buongiorno. Sì. Buongiorno. Io devo andare con i conti che tutto mi è andata che questo coronavirus quando potete dire del dottor Patrici? Non prima di settembre signora. Va bene perché non so se devo fare anche la tazza. Ma no, prima vediamo come va e poi o ne parla col suo medico curante oppure poi ne parliamo quando la visiterò io. Però anche tanto gli esami radiologici al momento vengono solo effettuati quelli urgenti in ospedale. Va bene allora posso stare tranquillo dottore? Posso aspettare? Dipende come sta. Io le dico sia tranquilla. però dipende come sta signora. Un riformazione ogni angelo più stanno. Grazie signora. Grazie. Per cambio buongiorno. Grazie un abbraccio 011 060 06 43 per le vostre telefonate 33 44 80 5 22 per sms e whatsapp abbiamo un'altra telefonata per il dottor capricci pronto? Pronto? Sono sempre la signora Maria. Sì buongiorno eccoci buongiorno dunque volevo buongiorno dottore buongiorno io ho un uccio nell'orecchio sinistro sì è molto fastidioso allora sono andata allo Torino alla cdc e mi ha dato mi ha visitato e ha detto che c'è del catarro e mi ha dato di ore in mille da mettere nel naso tre volte nel naso sì due gocce sì ecco anche di più di due gocce perché non mi è andata via questa cosa non mi è andata via ma quanti giorni quanti giorni ha fatto di terapia sono cinque giorni cinque giorni è poco se ha tanto catarro deve andare avanti almeno dieci quindici giorni deve bere anche tanta acqua soffiare il naso gradualmente delicatamente ma soffiare il naso perché l'azione di soffiamento del naso determina una liberazione della tuba quel condotto che collega naso e gola con l'orecchio sì però poi c'è da valutare se questo disturbo non sia legato alla circolazione quindi è importante fare anche un esame audiometrico l'ha fatto un esame audiometrico no l'esame dell'udito con le cuffie no ne l'ha fatto lei ma tre anni fa e come andava ha detto che andava bene sì però allora non aveva gli acufeni non aveva rumore nell'orecchio no e allora se persiste lei continua la cura ancora per una decina di giorni beva beva tanta acqua eviti di tenere la testa umida quindi quando ci sono sbalzi di temperatura attenzione anche se c'è vento se ci sono correnti d'aria e poi tra 10-15 giorni se la soluzione non si cioè se il problema non si è risolto farei un esame audiometrico va bene d'accordo controlli anche la circolazione e la pressione arteriosa che non abbia degli sbalzi grazie grazie allora la signora Maria dottore Capricci qua ce n'è una dietro l'altra 40 positivi alla Bartolini 49 alla Mondragone quasi tutti i bulgari sì sono notizie nuove non esattamente esaltanti diciamo così intanto però abbiamo un'altra telefonata allora sentiamo naturalmente chi c'è in linea pronto pronto buongiorno vorrei parlare con il dottor Capricci sì come si chiama da dove chiama buongiorno signora ma sì deve ascolti deve abbassare l'audio del televisore a zero completamente fare la domanda dal telefono signora ok ok prego ecco buongiorno prego signora allora dottore io ho un problema è un po' di anni che mi è successo che all'improvviso mi sono venuti degli apofeni fortissimi e poi mi girava la testa sono andata nell'ottomino e niente mi aveva prescritto la cura del il vertice e sono andata avanti e succedeva ogni tanto una volta all'anno invece adesso mi succede che mi viene forente proprio questi giramenti di testa se sono in casa va bene mi metto subito nel letto riesco in cosa ma se sono fuori è una cosa sperimenta perché mi viene e immagino eh quanti anni ha io ho 76 quanti anni ha 76 e adesso prima cioè prima di Natale mi era venuto ecco questi questi questo questa con feglie fortissime questi giramenti di testa che sono durati un po' ho fatto quella terapia lì come come mi ha consigliato il dottore i best per 15 giorni e 26 un mattino adesso mi hanno ripreso di nuovo e cioè mi ha dato poi di approvare il ski drop le gocce sì però non ha funzionato adesso di nuovo hanno ricominciato questi giramenti di testa e questo questi acofeni che questo rossino insomma che mi fa molto fastidio allora io siccome sono riuscita a contattare l'otorino ho preso soppiantento il best uno al mattino e uno alla sera e il verticerc al mattino cosa mi consiglio il verticerc da quanto è? 8 16 24 io dico subito che ce l'ho qua portata di mano il verticerc è 2,50 no il verticerc è 2,50 è il verticerc del chiesa il verticerc è 2,50 no il verticerc è 8,16 o 24 sì il verticerc è 24 sì 24 allora va bene una compressa sì una compressa al mattino sì allora deve prendere i due prodotti per almeno 20 giorni un mese prima di poter vedere dei risultati eh signora ma sempre continuando una il verticerc al mattino e il verticerc al mattino una ventina di giorni sì quant'è una cosa è 20 giorni un mese sì proprio è solo che anche un po' che una forza atrosi cervicale può essere anche quello dovuto certo sì l'ho detto prima alla telefonata precedente della signora precedente sì l'avevo accontato sì eh l'artrosi cervicale incide tantissimo l'artrosi cervicale dà problemi di mal di testa no ma di testa no ma di testa no ma mi fanno io oggi per esempio vedo riesco a malapena cioè a gestirmi perché io mi vedo proprio che mi gira la testa ma riesco insomma a stare da seduta da seduta a tenere la schiena come le ho detto da seduta meno no mi ascolti da seduta deve fare degli esercizi tiene la schiena diritta sì ruota il collo sì fino a quando può sia a destra che a sinistra molto lentamente sì e fa questi esercizi per tre quattro cinque volte poi si ferma e fa un esercizio spostando il collo in alto e in basso anche quello lo ripete per quattro cinque volte poi tende a inclinare la testa in questo modo qui e così sempre facendolo molto lentamente sì e poi è chiaro che se la situazione la situazione non migliora eventualmente farsi vedere anche da un fisioterapista per fare dei massaggi nel collo perché eh cosa ha detto è stato anche lì solo che adesso con questa pandemia è stato sospeso tutto sempre però faccia questi esercizi a casa e controlli anche la pressione del sangue sì è sotto controllo perché poi mi avevano dato anche le pastiglie per la pressione quanto è successo tutto questo sì infatti sì prendo la pastiglia ed è abbastanza equilibrata cioè bene allora faccia così continui per una ventina di giorni grazie grazie la nostra telespettatrice 011 060 0643 per le vostre telefonate 331 4480 522 per sms e whatsapp ma noi andiamo con un'altra telefonata pronto chi c'è in linea sono io buongiorno sono Pier Gesù di Miella sto parlando di Miella posso parlare con il dottore senta signora Piera Miella buongiorno ascolti abbassi per favore a zero l'audio del televisore la mia televisione l'abbasso a zero ok può fare la domanda dal telefono prego Piera sì posso parlare buongiorno allora devo parlare mi scusi io sono abito a Miella sul piazzo allora mi è successo tutta una cosa che io sono proprio arrabbiato con l'ospedale allora avevo un dolore sotto il seno sono andato davanti a un anno che il mio dottore mi dava il tachiberina poi mi hanno prenotato io sono andato dopo che ho detto prenotatemi non so una un'iracce sotto il seno vedete anche cosa c'è cosa posso capire me l'hanno data per l'11 maggio io mi sono andato all'ospedale e vi ho detto no e l'11 maggio non ho aspetto confusione mi hanno passata mi hanno passata sono andato alla polomonite mi hanno trovata sono andata dagli dottori lì allora un dottore mi ha visitato e mi ha detto signora lei ha bisogno di tanti di tanti vinciti per vedere l'ospedale mi ha dato tre visiti da fare una il cuore una per il fiato perché poi a me mi manca il tato quando cammino dottore non posso respirare e allora dovrei essere sempre io sono invalida perché sono operata in testa di una meningioma anche allora io non posso respirare quando cammino tremo e poi cerco di cadere sempre in avanti allora sti visiti dottore non me l'ha fatto più nessuno e ho telefonato sempre all'ospedale di Biella che ci è successo tutte sti cose qua adesso mi hanno messi per fare sti visiti ho telefonato mi parlo sempre dico scusate ma prenotate sti visiti che sono anche urgenti per la mia salute sono qui dottore dal mese di ottobre ma la polmonite l'ha avuta adesso o l'ha avuta a ottobre io sono stata malata da un mese in casa sono stata chiusa da un mese dal mese di ottobre perché il mio dottore che mi segue in neuro quando mi hanno mandato la risposta del disco quel giorno sono andata in neuro io che il dottore in neuro mi doveva guardare io ho chiesto al dottore di neuro se per piacere mi leggeva questo disco si è andato presa appena la risposta allora il dottore mi ha detto adesso signora lei va a casa ha detto vado dottore no 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 lei deve andare a casa urgente mi ha segnato tre scadole di antibiotici e li ho fatti tutti in casa mai uccita mai mai però ci è successo questo che io e mio marito abbiamo preso l'appetito per 15-20 giorni dottore mi creda non abbiamo mangiato niente niente eh ma immagino certo non potevamo mangiare niente non ce riuscivamo però la domanda che mi vuole fare qual è? signora ascolti dobbiamo lasciare spazio anche ad altri nostri telespettatori quindi se può fare una domanda precisa al dottor Capricci così poi lui può risponderle infatti una domanda precisa è questa questo esame come faccio a farmele fare da questi medici dell'ospedale di Biella che erano urgente che non ci riescono mi tengono un'ora a tereforo mi fanno fare le domande ma invece di andare mi scusi mi scusi visto che adesso il virus si è attenuato almeno speriamo invece di stare al telefono perché non può provare ad andare una mattina la a vedere in accettazione se gliela prenotano personalmente di precisa sono andata alla mutua qua a Biella non me l'hanno mica prenotato no ma in ospedale all'ambulatorio dell'ospedale all'ambulatorio dell'ospedale mi dica lei qualche cosa le sto dicendo di provare ad andare personalmente al mattino nell'ospedale di Biella anche perché qui entriamo in dinamiche ospedaliere che non è il nostro campo obiettivamente se aveva un consul un parere medico per il dottor Capricci un conto o parlarne con il medico curante bisognerebbe capire esatto insomma si informi di più vada vada di persona come dice il dottor Capricci magari le cose qualcosa riuscirà a fare di quello che ha detto 011 060 0643 per le vostre telefonate 331 44 80 0522 per i vostri sms o whatsapp allora dottor Capricci si parlato dei dati io so un po' qual è la sua posizione abbiamo allora intanto le volevo dire le volevo dire prego intanto la regia di proseguire tranquillamente no allora le volevo dire i dati non sono bellissimi oggi effettivamente questo riguarda anche l'Italia Focolaia e la Mondragone Focolaia e Bologna lo studio che rivela l'abbassamento dell'efficacia degli anticorpi dopo tre mesi io le volevo far parlare di questo prima però ovviamente spazio ai nostri telespettatori buongiorno con questo messaggio la vedo sempre un pochino meglio è vero condividiamo rubo solo tempo per salutarlo e abbracciarlo affettuosamente cosa ne pensa il dottore dei negazionisti del covid come si può venirne fuori se c'è gente così un augurio al doc che riesca ad andare un po' al mare e a nuotare Gabriele anche lui da Biella non so se è proprio visto che è sportivo il dottor Capricci sia un riferimento al famoso tenista Djokovic fatto sta che questo è il dubbio del nostro telespettatore eh sì il discorso che i negazionisti dovrebbero eventualmente fare un salto in ospedale e vedere purtroppo adesso non fanno ancora entrare però dovrebbero andare nelle rianimazioni oppure parlare con gente come me che si è fatta una polmonite rischiando di morire è chiaro che a volte uno nega per come stratagemma come meccanismo di difesa psicologico credo ci sono persone che rifiutano di parlare di malattie o di tumori e così via io dico che il virus non è stato ancora debellato e purtroppo c'è molta gente che gira senza la mascherina che secondo me invece la mascherina è fondamentale come protezione se andiamo nei centri dove sono c'è affollamento allora dottore visto che parliamo di attualità io vorrei approfondire con lei questo discorso intanto abbiamo una telefonata poi riprendiamo sentiamo chi c'è in linea pronto? 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 risolto il problema non c'è nessuno quindi approfondiamo anche questo è andata a prendere la mascherina sì poi c'è anche un noto virologo che ha detto così ha criticato molto questo lassismo che si riscontra e qua adesso abbiamo una telefonata sentiamo allora chi c'è in linea pronto? pronto? sì buongiorno come si chiama? da dove chiama? buongiorno deve abbassare l'audio del televisore a zero se no è impossibile ecco grazie io va bene così? no non l'ha ancora abbassato a zero faccia la domanda dal telefono abbassi l'audio del televisore a zero benissimo senta prima chiedo a scuola dottore faccia complimenti al conduttore e la la rete televisiva grazie del collegamento che hanno fatto per la festa di San Giovanni per la messa e per la festa grazie grazie dottore mi scusi ma di niente ha fatto bene ha fatto benissimo a ringraziare grazie per i complimenti signora sì perché guardi è stata una cosa sono meritato voglio parlare con lei dottore senza dottore io ogni tanto ho prurito nelle orecchie prendo un cotton fioc ma senza andare in profondità lo bagno con un po' d'acqua ciepiga no 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 signora sbaglia sbaglio allora senta sì cotton fioc non lo compri più così se non ce l'ha non lo usa benissimo per questa è una forma di eczema il condotto editivo è sensibile a qualsiasi anche alterazione metabolica cioè sembra assurdo ma il condotto editivo registra qualsiasi alterazione del nostro intestino se ci sono problemi di digestione se uno assume poca acqua poche vitamine se mangia qualcosa di indigesto può il giorno dopo avere prurito nell'orecchio è chiaro che mi aspetti che non ho finito è chiaro che andando a toccare col cotton fioc uno apparentemente sta meglio però rovina di più l'orecchio e quindi non guardiamo guarisce capito allora bere tanta acqua perché l'acqua aiuta rendendo più elastica la pelle del condotto editivo aiuta a guarire e tante vitamine quindi tanta frutta tanta verdura e poi il consiglio che le do io quando ha molto prurito mettere due o tre goccine di un prodotto che è a base di cortisone e anche di alcol ha una soluzione alcolica si chiama elocon e io credo che sia il prodotto migliore per curare gli eczemi e c'era un po' ma se brucia è necessario perché vuol dire che deve metterlo nel condotto editivo benissimo elocon elocon lozione non il latte perché secondo me il latte nel condotto editivo io non sono molto amante dei latti da inserire nel condotto editivo perché macerano di più la lozione è più efficace dottore mi scusi quando io ero bambina io adesso ho 86 anni abitavo in campagna e quando avevamo un male all'orecchio si andava a cercare una mamma che allettava il bimbo mettevano un po' di lasce che prendeva e si mette un pezzo di patone e si curavano così il latte mamario contiene tanta vitamina A però adesso donne che ha lato non le conta sulla punta delle dita di una da mano quindi oggi le lo con grazie signora lo so era giusto qualche anno fa effettivamente però purtroppo come dice il dottor Capricci sono cambiate anche le pratiche quindi a volte potremmo dire purtroppo in alcuni casi per fortuna le cose sono un po' diverse abbiamo intanto un'altra telefonata pronto? deve abbassare l'audio del televisore a zero sento la mia voce fin qua a zero assoluto e faccio la domanda dal telefono ci dica come si chiama e da dove chiama non abbassa l'audio del televisore non abbassa niente allora cogliamo l'occasione per ricordarlo lo facciamo sempre lo faremo all'infinito finché campiamo potremmo dire abbassare l'audio del televisore a zero se no come avete visto anche magari guardando gli interventi di altri telespettatori vi fate un'idea la comunicazione per via dei ritardi e del ritorno audio diventa impossibile quindi andiamo adesso con un'altra telefonata pronto? che è peggio di quella di prima abbassi l'audio del televisore a zero e ci faccia la domanda al telefono posso fare la domanda al dottore? solo se abbassa l'audio del televisore a zero signora l'ho abbassato allora ci dica come si chiama e da dove chiama io chiamo da Collegno provincia di Torino mi chiamo Ireci Maria Rosa grazie bastava Maria Rosa prego signora il dottore l'ascolta buongiorno posso fare la domanda? allora dottore io ho l'acufene sull'orecchio destro sono stata operata dell'orecchio sinistro non ci sento per niente però dopo un diverso tempo sull'orecchio destro mi è venuta questa acufene e continua a esserci qual è il problema? cosa posso fare? allora il problema è complicato nel senso che le cause di acufene sono tantissime fondamentalmente oltre a delle cause sconosciute la prevalenza è legata a disturbi circolatori o legati anche a una perdita di udito la sua circolazione e la pressione arteriosa come sono? non abbiamo persa la signora purtroppo non l'abbiamo più in linea le spiego così dicevo le cause di acufene sono tantissime bisogna cercare di migliorare la circolazione del sangue e la pressione arteriosa prima di tutto controllare l'artrosi cervicale perché nelle persone anziane l'artrosi cervicale incide anche tantissimo per quanto riguarda il mantenimento dell'equilibrio e per quanto riguarda i rumori nell'orecchio e poi bisogna fare un esame audiometrico una visita al Torino queste sono le regole fondamentali dottore abbiamo un'altra telefonata pronto? pronto? buongiorno sono Fiera Montella buongiorno buongiorno sento vi volevo chiedere un favore siccome mi trovo a Parinelli sto aspettando che mi fanno la dimissione però ho ancora niente da fare cosa dite questo codice è passato sì o no? no non è ancora passato e quanto ci vuole chi dice che è passato dice una stupidaggine signora si sarà attenuato ma di casi ce ne sono ancora e bisogna stare molto molto attenti poi ho sentito dire ad altri colleghi vostri che dicono che non bisogna portare le mascherine è vero? guardi guardi io ho avuto l'infezione ho avuto dei grossi problemi io quando esco per mia protezione ma anche per la protezione degli altri la mascherina la uso in più io sono coperto perché ho fatto gli esami e ho le difese immunitarie alte ma preferisco girare con la mascherina non è niente di così tremendo avere una mascherina tra naso e gola insomma è molto meglio la mascherina che avere quella boccia di chip up che ho avuto io per tre giorni può avere i tubi in gola quindi un minimo di supportazione per le mascherine direi che che è necessario poi uno è libero di fare quello che vuole e su questo importante consiglio del dottor Caprici leggiamo un messaggio mia figlia ha 33 anni le è stato consigliato il vaccino trivalente morbillo rosolia parotite so che non è il suo campo ma come mamma sono molto preoccupata voglio sapere quali sono gli effetti collaterali nelle persone adulte la ringrazio infinitamente ma un vaccino di questo tipo io lo consiglio nel senso che comunque sono malattie queste che non sono state ancora debellate del tutto e la vaccinazione secondo me è fondamentale è completamente diverso dal discorso col vaccino antinfluenzale o con altre situazioni o altre vaccinazioni se non c'è un'allergia direi che il vaccino è ben tollerato insomma quindi io sono favorevole abbiamo una telefonata pronto? c'è un risultato io Fianna Masca Lucia sì volevo dirvi il vaccino quando si può fare ma quale vaccino? il vaccino per coronavirus sì per i covid esatto forse l'anno prossimo signora assolutamente l'anno prossimo forse non è ancora prossimo non si sa neanche ancora se sarà efficace quindi proprio per questo motivo date che anche noi medici e mi ci metto anch'io per evitare poi di polemiche non sappiamo molto di questo virus si sa poco in questi mesi hanno detto il tutto è il contrario di tutto ma in realtà non si conosce ancora bene quindi il vaccino non è pronto non è pronto a ottobre non sarà pronto a dicembre per cui proprio per questo motivo bisogna adottare delle precauzioni purtroppo io vedo anche in giro la settimana scorsa sono passato in macchina non guido ancora io però mi avevano portato sono passato a Porta Palazzo Porta Palazzo il metro se lo scordano le bancarelle sono vicinissime la gente e non ha non hai la mascherina così rischiamo grosso così rischiamo veramente io non voglio fare del terrorismo psicologico dico le stesse cose che ho detto tre mesi fa quando dato che io sono il fiduciario medico mi avevano chiamato in federazione per andare a controllare gli spogliatoi delle varie squadre di calcio mettergli i distanziometri e così via io ho detto attenzione perché la pandemia non c'è ancora ma prima o poi arriverà pensavano che io esagerassi alcuni presidenti di società pensavano che io esagerassi invece poi purtroppo ho avuto ragione e adesso come adesso il virus non è ancora stato debellato Dottor Caprici noi adesso andiamo con qualche minuto di pubblicità tra poco ci ritroviamo ancora con voi telespettatori con tutti i vostri contributi naturalmente con lo Torino Laringoiatra dell'ospedale Molinette di Torino Dottor Massimo Caprici a tra poco vi aspettiamo Ben ritrovati in diretta a seconda parte di Buongiorno Dottore sempre in compagnia in video collegamento da casa sua con lo Torino Laringoiatra del Dottor Massimo Caprici Torino Laringoiatra Universitario Ospedale Molinette di Torino che credo che abbiamo anche recuperato in audio mi sembra di sentirlo eccolo qua 011-060-0643 per le vostre telefonate mentre il Dottore sistema un attimo l'inquadratura vi ricordiamo il numero anche per mandare sms o whatsapp che è il 331-4480-522 in questo momento vediamo ecco mi ha visto di nuovo un attimo il tetto bianco del Dottor Massimo Caprici ci sente Dottore? non ci sente credo in questo momento allora in attesa di recuperare il collegamento audio con lo Torino Laringoiatra Dottore Massimo Caprici ricordiamo ancora un po' di spunti ce ne sono veramente a bizzeffe quest'oggi e forse non è tanto bello anzi per niente lo dicevamo oltre ai focolai della Bartolini della Mondragone e non solo il fatto lo studio su Nature la famosa rivista gli anticorpi prodotti dai guariti diminuiscono in tre mesi non è del tutto confermato ma sembra che effettivamente il 70% di efficacia venga persa col passare del tempo e in alcuni soggetti gli anticorpi non sono più rilevabili c'è anche una divisione tra scienziati tutte cose su cui nel caso parleremo con il Dottor Caprici anche se sono tanti ovviamente i contributi da casa e hanno sempre la priorità scienziati divisi su quanto infetti il virus cioè se abbia calato se si è calata la potenza virale del virus in molti come il nostro stesso Dottor Caprici ricordano di non abbassare assolutamente la guardia non credo che il Dottore giudicare dai commenti che sento ci stia sentendo Dottore mi sente? No? Ok? Allora dicevamo tra le tante questioni il virologo Crisanti che dice asintomatici non diffondono il virus mi cadono le braccia è un messaggio inopportuno dice incoraggia comportamenti non prudenti serve umiltà la regia ce lo inquadra vediamo se riusciamo a recuperare questo articolo tratto in questo caso da Corriere.it dicevamo l'opinione del Dottor Andrea Crisanti intervistato dice c'è un rischio di liberi tutti che peraltro poi quello che ci diceva il Dottor Massimo Capricci alla fine del primo blocco della nostra trasmissione spesso vediamo il metro di distanza non rispettata la mascherina che non viene indossata magari anche in contesti un po' borderline sappiamo che dentro i negozi e negli spazi chiusi viene indossata ma a volte ecco in zone affollate anche in quei casi anche se sia all'aperto sarebbe opportuno indossarla insomma qui si dice non è ancora tempo di festeggiare risponde il virologo non dobbiamo dimenticare che tutto è iniziato con 4.000 casi denunciati dalla Cina hanno fatto scattare l'allarme e le misure sottolineo 4.000 solo martedì nel mondo si sono diagnosticati 150.000 infetti solo nella giornata di martedì quindi le proporzioni che ha assunto nel mondo il coronavirus l'India tra l'altro in questi giorni è messa piuttosto male e che purtroppo potrebbe il rischio c'è sempre ritornare anche in Italia non so se il dottor Capricci mi sente ecco bene si vi sento bene ci siamo ricollegati e ricordiamo che hanno riaperto gli aeroporti quindi la gente sta viaggiando quindi bisogna stare molto molto attenti perché il virus non è stato ancora debellato assolutamente quindi non non pensiamo di avercela fatta o di essere riusciti a debellarlo del tutto quindi sono piccole precauzioni cioè non è che uno se gira con la mascherina è un reietto cioè ha la mascherina e la tiene insomma anche se fa caldo e lei diceva prima riscontra a volte comportamenti non opportuni in questi giorni a Turino sì perché girando io vedo insomma io non giro tanto perché vado a fare fisioterapia poi non è che posso perché mi stanco ancora facilmente ma anche quando sono andato in ospedale la gente in giro soprattutto i giovani c'è gente pochi giovani usano la mascherina certo e leggevo l'altro giorno e ne parlavo anche con dei colleghi in ospedale i giovani è vero che sono meno colpiti però possono essere dei portatori sani certo o dei portatori paucisintomatici quindi con pochi sintomi che però possono trasmetterlo ai genitori agli zii ai nonni quindi a persone più anziane quindi bisogna stare molto molto attenti intanto abbiamo una telefonata pronto allora devi abbassare l'audio del televisore a zero completamente a zero fare la domanda dal telefono e ricordarci come si chiama da dove chiama ha abbassato l'audio del televisore forse sì no non l'ha abbassato e non ci sente per cui direi che non riusciamo a comunicare con il nostro telespettatore allora abbiamo un'altra telefonata pronto abbiamo un'altra telefonata pronto anche qui sì signora buongiorno anche lei mi raccomando abbassi l'audio del televisore a zero e ci faccio la domanda dal telefono chiedo scusa ho già disturbato prima dottora abbia pazienza buongiorno no si sono quelle dell'orecchio ah sì dunque non sono quasi mai raffreddata e non mi soffio quasi mai il naso il naso mi viene cioè soffiarmi il naso quando faccio colazione o pranzo o cena ecco allora allora capita mentre mangio cola mentre mangio cola ecco perfetto mi cola il naso allora discorso è questo legato a volte a un'irritazione delle cellule che si sono cellule nervose all'interno del naso capita soprattutto nelle persone che hanno già una certa età perché la mucosa nasale perde elasticità quindi è meno resistente anche alla temperatura del cibo e alle sostanze olfattive del cibo quindi alle particelle che entrano nel naso perché il cibo ha degli odori ovviamente e quindi c'è questa irritazione è un meccanismo riflesso spesso è legato a carenza di vitamine soprattutto vitamina A vitamine del gruppo B quindi è importante mangiare molta frutta molta verdura si possono fare come lavaggi anche prima di pranzare di mangiare pranzo di mangiare cena dei lavaggi con dell'acido ialuronico lo ialo clean è uno dei prodotti migliori è uno spray nasale se lo spruzza nel naso prima di pranzo e di cena soffiando poi delicatamente il naso e volendo si può anche mettere una pomata nel naso per una settimana la pomata la può mettere alla sera prima di andare a dormire ed è anche quella a base di acido ialuronico ed è la cicatridina unguento nasale va molto bene grazie grazie però bere tanta acqua e molte vitamine speriamo siamo stati definitivamente esaustivi con la signora 011 060 0643 per le vostre telefonate 331 4480 522 scusate lo vedete in sovrimpressione per sms o whatsapp abbiamo un'altra telefonata per il dottor Capricci pronto è un'altra persona che deve abbassare a zero l'audio del televisore abbassi a zero l'audio del televisore e ci ricordi come si chiama da dove chiama mi chiamo Teresa si di Venaria buongiorno si buongiorno buongiorno volevo parlare con il dottore Teresa da Venaria buongiorno prego sono qua signora di venerdì mi prendono cate il tire sono andato dal mio procurante mi ha detto che è l'orecchio cosa devo fare dottore beh è l'orecchio e non le ha detto niente non la manda dall'otorino le ha detto è l'orecchio basta vederci grazie dall'otorino ma non riesco a pronotarle perché non riesce perché mi hanno dato una pronotazione per il 20 di ottobre forse c'entrerà anche il covid in questo eh sì sì però il problema è che ad esempio mi ascolti bene sì da noi in ospedale in ambulatorio e quindi penso anche eh negli altri ospedali se l'impegna attiva riporta in alto nel codice un codice B come Bologna sì o U di urgente B come Bologna invece della P mi ascolti invece della P programmata la P di Palermo perché con la P se l'impegnativa del medico curante riporta una P è chiaro che a ottobre novembre se no ancora addirittura nel 2021 ma con la B con la B di breve ecco la B di breve dovrebbero darle un appuntamento entro dieci giorni entro dieci giorni sì e per prenotarmi lì alle Molinette come devo fare alle Molinette deve telefonare mi ascolti per le Molinette deve telefonare al CUP lo trova su ecco è lì in quel riquadro alto che la la regia prontamente ha sviluppato ovviamente questa ricetta è quella rossa adesso molti medici hanno quella bianca lei ha quella rossa o quella bianca? no bianca bianca ecco comunque tanto le sigle sono quelle deve telefonare al CUP e io sinceramente il numero del CUP non lo so perché lavorando dentro il CUP mi serve passo un attimo lo può trovare o su internet o chiedere non so al suo medico curante telefonando al CUP le richiedono il numero della ricetta e il grado di urgenza ecco la regia è efficientissima 011 633 222 0 633 222 0 chiami domani mattina perché oramai a quest'ora credo che si è chiuso chiedo per lei mi visita lei dottor io prima di settembre non posso visitare prima di settembre quindi non ci sono io io ho sentito capigiri quando mi sentai a letto ho capigiri deve guardare deve farsi vedere prima di tutto dall'otorino poi è vero che può dipendere dalla circolazione dall'artrosi ne abbiamo già parlato oggi però comunque la prima visita da fare per chi ha dei rumori nell'orecchio per chi ha delle vertigini è la visita dall'otorino grazie 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 alla nostra telespettatrice abbiamo un ampio e così completo messaggio sempre il naso che mi cola non sempre soffiando il naso riesco a sentire il naso del tutto pulito quando non cola o croste non esce muco o catarro ma solo liquido liquido che appunto tampono con un pezzo di carta dentro le narici mi accade questo già da un anno ormai al mare metto la protezione solare vicino agli occhi ma intorno non dentro agli occhi insomma poco dopo mi si tappa il naso e incomincio a non vedere più grazie Tiziana ma dunque allora sono due cose credo non totalmente collegate almeno che non c'entri il dotto naso lacrimale quindi io un controllo dall'oculista eventualmente lo farei per quanto riguarda il naso la carta comunque non è l'ideale per togliere le croste anche i fazzolettini di carta perché poi comunque i fazzolettini di carta ricordiamo che sono efficientissimi ma andrebbero usati una volta soltanto quindi devono essere monouso io so di gente che usa il fazzolettino di carta 6, 7, 8, 10 volte lo tiene in tasca lo tiene nella borsa assieme alle chiavi ai soldi a tutto il resto quindi può essere anche quello un veicolo di germi il fatto che si formino delle croste può essere legato a fattori infiammatori sia del naso che eventualmente dei seni paranasali per cui io farei dei lavaggi con dell'acqua marina e dell'acido ialuronico quindi torno al solito ialoclean che direi di usare per 10-15 giorni ogni mese anche nel periodo caldo quindi anche adesso in estate e poi metterei alla sera nel naso ma non con la carta non col cotonfiocco non col cotone non col dito ma avvicinando soltanto il tubicino metterei della cicatridina unguento unguento nasale ecco questo è lo ialoclean la regia giustamente l'ha fatto vedere perché c'è lo spray nasale e lo spray orale quindi quello che consiglio a lei è lo spray nasale che è questo scatola verde con il naso bianco l'altro è lo spray orale che nel suo caso non mi sembra che le serva e poi la pomata da lasciare nel naso tutta la notte eventualmente se non vuole avere il naso chiuso da tutti e due i lati mette una sera da un lato e una sera dall'altro ecco qua questa è la cicatridina pomata scatola azzurra poi c'è la cicatridina unguento nasale che l'hanno fatto da pochi mesi forse da un anno che è una scatola verde ed è più piccola quindi una o l'altra vanno bene tutte e due dovremmo avere una telefonata pronto no allora ricordiamo ancora una volta 011 060 0643 per le vostre telefonate 331 4480 522 per sms o whatsapp lei è d'accordo con questo virogolo che dicevamo prima nel periodo non collegato che dice che sempre nelle trasmissioni televisive bisogna dare la priorità a chi c'è in linea abbiamo una telefonata scusi la battuta dopo la riprenderemo l'ha detto il virologo se l'ha detto il virologo no più che altro sul tema degli asintomatici c'è molto dubbio ancora oggi se abbiamo tempo ne parliamo dottore intanto però sentiamo chi c'è in linea pronto? pronto mi scusi avevo chiamato prima posso ancora fare una domanda sull'Evopride che non mi ha dato la risposta per quanto tempo bisogna prenderle le ho detto di prenderlo tranquillamente anche tutta la vita sospendendo per magari 10-15 giorni ogni volta ah allora posso continuare e fare un po' di ginnastica con il collo con quelli brutti si può? ma la ginnastica la deve fare seguita da qualcuno perché se fa l'autodidatta rischia di fare degli esercizi che diventano controproducenti rischia di fare più danni che vantaggi grazie grazie adesso basta però lasciamo spazio anche naturalmente ai nostri telespettatori comunque grazie anche alla signora sì diciamo che sulla questione degli asintomatici un attimo prima che arrivasse un altro avviso di chiamata allora vediamo se riusciamo a parlarne in parte bisogna dire la verità già risposto prima dottor Capricci intanto sentiamo chi c'è in linea pronto? 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 buongiorno come si chiama? buongiorno sono la signora vicina sì buongiorno sentasi io sono un diana diabetica allora anche lei signora abbia pazienza lo so che signore mi ascolti lo so che si sta sforzando di parlare fluentemente ma abbassi l'audio del televisore a zero se no ha visto come è sentito più che altro quanto è difficile parlare con il dottor Capricci abbassi l'audio a zero e faccia la domanda dal telefono posso parlare? prego allora io sono una diabetica ho 84 anni quest'anno ho fatto due polmonini in cui però l'anno scorso due anni fa sono stata operata la cataratta con tutte le conseguenze con tutte le conseguenze però è andata bene l'altro no mi continua a piangere a respirare mi fa male mi si chiude ho messo due coccine le farmacie mi ha mandato ero andata di nuovo chi mi aveva operato mi aveva fatto dei lavaggi e tutto ma non mi riesco a venire e il naso ma cosa ha detto l'oculista? porto la C-PAP la notte metto la C-PAP ho sempre la gola secca tutta la C-PAP eh ma quello purtroppo con la C-PAP capita purtroppo è una prerogativa è un inconveniente direi della C-PAP deve aumentare l'apporto di acqua che tanto se è diabetica anche l'acqua va bene la metto la notte due volte nella macchinetta eh lo so però deve anche bere bere proprio berla durante l'arco della giornata bere tanto e poi per l'occhio controlli di nuovo vada di nuovo dall'oculista perché potersi che ci sia potrebbe esserci un problema del dotto naso lacrimale oppure è un problema solo dell'occhio per cui prendere le gocce così in farmacia se non gliela prescritte lo specialista a volte può essere anche controproducente grazie dunque anche alla nostra telespettatrice ultimamente mi basta un colpo d'aria per avere mal di gola ed orecchie che passa con uno spruzzo di tantum verde cosa fare? grazie Anna 66 anni eventualmente fare parlarne col medico curante se non vuole andare da uno specialista e fare una terapia per una settimana senza aspettare di avere mal di gola con degli antinfiammatori io inizierei magari con un antinfiammatorio blando come il flaminase o l'ananase delle compresse da prendere una pranzo o una cena per una decina di giorni e poi se non passa a quel punto fare un controllo da uno specialista o torino che non ci sia un problema non so se è stata operata di tonsille se le tonsille sono ancora presenti ci può essere una secrezione catarrale rino-faringea di provenienza dai seni paranasali però il tantum verde è un ottimo prodotto però è sintomatico se lo usa una tantum una volta al giorno e basta o anche solo per una giornata due o tre volte e poi non lo usa più non risolve però il problema se ha una forma cronica di infiammazione abbiamo una telefonata dottore pronto? pronto? no, credo che sia caduta niente allora io ricordo ancora perché a volte poi arrivano le telefonate mentre lo dico 011 060 0643 lo vedete il numero per chiamare 331 44 80 522 il numero per i vostri sms e whatsapp infatti abbiamo una chiamata per il dottor Caprici che sta sistemando l'inquadratura pronto? io ci sono sì, abbassi però l'audio del televisore a zero signora per favore qui abbiamo addirittura un effetto Larsen signora mi sente? ci sono le corna muse pronto? pronto? signora? è svenuto allora pronto? sì ha abbassato l'audio dal televisore a zero per favore se no è impossibile signora non l'ha fatto niente abbiamo non siamo riusciti lo sento anch'io magari riproverà esatto infatti magari riproverà più tardi grazie per la risposta in merito alle croste ma il mio problema maggiore riguarda il fatto che mi cola spesso liquido dal naso durante la giornata tamponi con fazzoli diversi ecco ma il problema maggiore è questo a maggior ragione usare lo Yaloclean lo spray nasale 7-8 volte al giorno per una decina di giorni è fondamentale abbiamo un antinfiammatorio naturale abbiamo un'altra telefonata pronto? io non so se sia forse addirittura il telefono perché così è veramente vistoso cioè sento più dall'altoparlante che è la mia voce sì allora chi c'è in linea? proviamo pronto? sì pronto buongiorno come si chiama? da dove chiama? telefono dalla Valle Cannobina sì ecco profitto ringrazio il dottor Capricci che ci ha seguito in questo periodo di 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 in questi mesi qua io ho seguito relativamente perché ho anche io mi sono preso un mese sabbatico senta dottore una curiosità non le elenco tutti i miei problemi che dall'orecchio destro ho perso l'udito completamente adesso ho visto ultimamente che i cerotti biomagnetici che hanno una gran pubblicità ma possono risolvere recuperare l'udito le dico già che non lo recuperano una bufala eh direi che dipende poi dal tipo di perdita di udito che lei ha avuta bisognerebbe vedere che lei ha avuto bisognerebbe vedere un esame odiometrico però questi cerotti all'interno della scusi che è già da tanti anni che poi ho fatto una pacca dipende dalla coclea del manghetto in parole povere che sono le microcellule che non le hanno consigliato un impianto cocleare invece fare un intervento non ancora no perché poi mi sono perso di coraggio e non ho più no quello no non deve perdersi di coraggio assolutamente mai quanti anni ha perché poi 70 anni però 70 anni ancora relativamente giovane no no non si abbatta ma c'è sinceramente ho qualche possibilità per recuperare ma guardi io glielo potrei dire confortato vedendo l'esame odiometrico tonale e vocale le posso dire però che a 70 anni è ancora non così vecchio da abbandonare ogni tipo di 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 tentativo per recuperare il cerotto secondo me non le risolve il problema quindi valutare eventualmente come ho detto se fare magari un impianto cocleare quello sì ma è fattibile anche alla mia età posso risolvere certo se è sano che sopporta un intervento di un'oretta senza grossi problemi certo tanto si fanno tutti gli accertamenti prima sì perché ho buon abito in Erbania quella zona è un po' distante dall'Ulto Molinette beh ma c'è Novara Novara sono bravi eh Novara è vicino adesso lascio passare può contattare gli autorini di Novara sì ma vabbè vi ringrazio proprio di cuore perché in questo periodo seguivo un po' tutte le vostre trasmissioni non riuscivo mai a provare diciamo la soluzione del mio caso perché si parlava di tanti però questo dell'acufene di questi poi vedevo adesso questi cerotti dico ma sembra un po' una buffala diceva sì eh va bene ho visto la sua chiarezza guardi la ringrazio vi seguo anche sempre la vostra trasmissione a parte che ero un po' a singhiozzo perché abito nell'alto a BCO vicino alla Svizzera eh lo so sono anche se posso aggiungere un tifoso Granata ah bene va bene lo stesso io sono sono juventino però non cambia forse l'ha detto la fine apposta perché ha avuto paura sono di quei Granata che sono del 49 sono nato il giorno del qualche mese dopo l'anno di è nato l'anno di super sono tutte cose collegate però penso di essere un di quei pochi Granata che rispettano la Juve perché perché vuol dire che è una persona intelligente allora grazie grazie allora grazie anche per la sua testimonianza come diceva il dottore 70 anni è abbastanza giovane insomma quindi è assolutamente importante che tenga duro questo signore che abbiamo capito che è nato il 4 maggio del 49 giorno della tragedia di Superga sicuramente un giorno significativo noi andiamo con qualche istante di pubblicità tra poco ancora in diretta con lo Torino Laringoiatra dottor Massimo Capricci ben ritrovati in diretta con Buongiorno Dottore ancora e sempre in videocollegamento con lo Torino Laringoiatra dell'ospedale Molinette di Torino il dottor Massimo Capricci 011-060-0643 è il numero per telefonare e parlare in diretta con lo Torino Laringoiatra 331-4480-522 per i vostri sms o whatsapp forse abbiamo di nuovo qualche problema audio con il dottor Capricci non so se mi sente credo di no allora c'era ancora un'altra notizia che volevo commentare col dottore in alcune regioni le mascherine non servono più lo ha detto Donato Greco che è un epidemiologo ed è uno dei firmatari della dichiarazione ecco lo vediamo sulla minore infettività del SARS-CoV-2 è venuto il momento di modulare gli interventi anti-covid a seconda della zona geografica allora questo non significa che il dottor Greco sia in contrasto col dottor Capricci nel senso che questa è appunto una dichiarazione di tipo geografico che probabilmente anzi sicuramente non vale per Torino e il Piemonte effettivamente ci sono state grandi differenze a seconda dei vari territori d'Italia credo che adesso il dottor Capricci mi stia sentendo ma anche i nostri telespettatori perché abbiamo una telefonata sentiamo intanto chi c'è in linea pronto? buongiorno senti vorrei parlare con il dottor Capricci sì come si chiama da dove si chiama? sono Carboni buongiorno buongiorno sì dottori senti che si ricorda di me sono Carboni sì mi ricordo buongiorno l'ho chiamato per salutarlo solo per questo qua l'ho chiamato l'ho chiamato ci sono più giorni fa grazie io la ringrazio comunque ci sentiamo grazie grazie buongiorno per il suo saluto salve grazie sono tante le manifestazioni di affetto ovviamente per il dottor Capricci l'aveva una brutta faccia mentre raccontavo diciamo leggevo il titolo di questa intervista dottor Capricci ma no all'inizio non l'avevo sentita quindi la prima parte dell'intervista non l'ho sentita però non è che mi sembra che siamo in disaccordo anzi bisogna stare molto attenti bisogna stare molto attenti anche andando in giro io ho visto delle foto della montagna le montagne vicino le montagne del Piemonte sono state prese d'assalto dai cittadini dai turisti eccetera però bisogna sempre stare attenti anche se l'aria della montagna è buona o l'aria del mare aiuta tantissimo ma anche al mare bisogna avere le precauzioni una mascherina non è assolutamente qualcosa di inconveniente anzi il virus non è stato ancora debellato abbiamo una telefonata pronto? pronto buongiorno sono Massimo buongiorno buongiorno Massimo da dove? da Torino prego volevo ringraziare il dottore per l'altra settimana che mi ha dato un consiglio per quel problema che avevo sulla gamba mi aveva detto di usare ventali indietro ah me lo ricordo sì ecco va tutto bene cioè sta migliorando bene e solo che dove la rosso diventa marrone ma comunque e beh piano piano ci vuole del tempo ecco comunque anche se riguardavo la gamba io faccio lo Torino però il consiglio che le ho dato era buono mi fa piacere sì ottimo ottimo e poi volevo dirle una cosa dottore riguardo al contagio e tutte queste cose qua ma se tutto è partito in Italia da una o tre persone adesso che ce ne sono ancora parecchie che girano com'è possibile che sia diventato tutto così facile risolvibile cioè se è partito da uno e è infettato tutta l'Italia caspita allora facile facile risolvibile non lo è il problema è che purtroppo c'è anche un discorso economico allora è vero che se noi isoliamo completamente tutto blocchiamo tutto come erano due mesi fa abbiamo più sicurezze però purtroppo la gente deve lavorare la gente deve guadagnare il problema è che non fino adesso adesso io non voglio fare un discorso politico eccetera ma Conte ha fatto tante promesse però fino adesso soldi dall'Europa non abbiamo visti e ci sono dei lavoratori che sono in grosse difficoltà allora bisogna riprendere gradualmente l'attività ma proprio perché il virus non è stato ancora debellato bisogna essere prudenti e la prudenza prima di tutto è quella di cercare di evitare i contagi girando con la mascherina avendo delle precauzioni proseguire con il lavaggio delle mani come all'inizio cioè non abbassare la guardia il problema è quello perché il virus non è stato ancora debellato grazie allora al nostro telespettatore un messaggio buongiorno dottore sono la mamma di un bambino di 11 anni a cui capita spesso che si arrossino tanto le orecchie e gli bruciano molto esternamente con la tachipirina non trova sollievo lui le bagna con l'acqua da cosa può dipendere? potrebbe esserci una forma di irritazione o di allergia o di ipersensibilità a volte ai saponi ai bagnoschiumi al bagno della doccia allo shampoo oppure a una forma di eczema a volte a da carenza di vitamine il fatto che l'acqua le dia sollievo è perché l'acqua è fresca però le conviene non raschiare con cotonfioc con cotone con altro perché se no si innesca un circolo vizioso metterei delle goccine visto che a 11 anni l'elocon che a base alcolica brucia troppo e quindi magari il bambino non lo tolera farei una cura di una settimana con della nauran le gocce nell'orecchio due o tre gocce tiepide quindi quindi metta il tubicino nell'acqua calda del rubinetto due o tre gocce nel condotto editivo pulendolo con una garza all'esterno ma non usando il cotone e facendo mangiare a suo figlio tante vitamine quindi frutta e verdura in abbondanza 011-060-0643 per le vostre telefonate dovremmo avere proprio una telefonata pronto? pronto? buongiorno come si chiama? da dove chiama? mi chiama sono da da Chivasso si buongiorno mi chiamo Rosa vorrei chiedere al dottore alcune cose pronto? prego signora dica dica signora buongiorno come mai al mattino mi alzo e mi soffio il naso tantissime volte come vedo il chiaro sì a me tanto il chiaro o lo scuro è il fatto che alzandosi si scarica la quantità di liquido che ha nei seni paranasali anche se magari non ha una vera e propria sinusite con gli sbalzi di temperatura il naso e i seni paranasali producono della secrezione che ci serve per come meccanismo di difesa e questo ristanea durante la notte magari ne produce di più se se durante la notte si abbassa troppo la temperatura a parte che adesso in questi giorni fa molto caldo però comunque quando si abbassa la temperatura notturna il naso può produrre più secrezione a meno che io non la posso visitare quindi non so esattamente il quadro obiettivo che lei ha però potrebbe esserci anche un inizio di sinusite e il tipico segno è quello che poi quando uno si alza dopo la notte il naso cola può essere di un colore acquoso quindi simile all'acqua oppure può essere di consistenza maggiore proverei a fare ripeto anche a lei dei lavaggi con dell'acqua marina e dell'acido ialuronico spruzzarlo soprattutto alla sera prima di andare a dormire per 15-20 giorni un messaggio prima di tutto le formule i migliori auguri di un completo ristabilimento e ovviamente ci associamo vorrei sapere il suo parere per quanto riguarda le prossime vacanze posso andare in tranquillità in Liguria ad agosto e quali precauzioni adottare grazie Carla 78 anni signora chiede a un Ligure se può andare in Liguria è chiaro che le dico di sì nel senso che già solo per la focaccia di Recco scenderebbe solo per la focaccia di Recco ma anche la farinata di Savona non è male è vero allora dicevo il mare aiuta tantissimo va molto bene andare in montagna va molto bene andare al mare attenzione però che bisogna adottare le solite precauzioni anche lì quindi attenzione alla distanza tra le persone soprattutto tra persone che magari non conosce è chiaro che se va al mare non si tuffa nell'acqua con la mascherina però se poi è in una a pranzare sulla spiaggia o in un ristorante sul sul litorale ma la mascherina magari se la porti e se la tenga portata di mano l'unica precauzione direi che è quella poi il sole e l'aria di mare aiutano tantissimo sole e ossigeno vanno benissimo il sole oltretutto attiva la vitamina D che è fondamentale non solo per le ossa ma anche per i muscoli e quindi è anche una prevenzione assieme allo zinco e al selenio nella prevenzione anche di un'eventuale infezione da covid quindi la vitamina D visto che è importante come altre vitamine ovviamente vitamina C vitamina A e così via vada tranquillamente in Liguria dovremmo avere una telefonata ancora pronto? 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 mi sente? sì come si chiama? da dove chiama? io sono sempre la signora Gilda e volevo ha già chiamato prima? dottor Caprice prima buongiorno signora lo trovo bene in salute abbastanza e io volevo solo chiederle una cosa dottor Caprice io il virus l'ho fatto però l'ho fatto in casa tutto quanto è andato abbastanza bene tutto non mi posso lamentarmi più di tanto l'unica cosa è che mi è ancora rimasto i dolori muscolari il mio medico di base sta continuando a farmi prendere degli antinfiammatori e logicamente per quanto li devo prendere già è un mese che le prendo però questi ma io prenderei anche guardi le cose mi scusi mi scusi dottore questi dolori muscolari però diciamo piano piano rallentano e mi gonfiono anche le caviglie che non sono capito perché allora io volevo sapere se va bene se ha avuto l'infezione da virus le posso assicurare è il problema che ho avuto anch'io ha perso molte proteine quindi attenzione perché i muscoli sono anche fatti di proteine e di vitamine ho detto prima la vitamina D per cui oltre a prendere antidolorifici dica al suo medico curante di darle dei complessi multivitamini e eventualmente delle proteine oppure fare una dieta iperproteica quindi con tanta carne bianca e rossa non basta l'antidolorifico se non vuole il suo medico curante fare un dosaggio delle vitamine quindi con un prelievo di sangue però che gliele dia come integratori grazie anche zinco potassio magnesio queste sostanze qua che sono degli elettroliti fondamentali grazie dunque abbiamo un'altra telefonata pronto? 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 buongiorno come si chiama e da dove chiama? buongiorno chiamo da Torino mi chiamo Maria Luisa sì buongiorno buongiorno volevo sapere telefono per mia mamma io che ha avuto un ictus una certa età anche mia mamma ha 89 anni e c'è sempre una diciamo lei si sente sempre chiusa tra naso e gola c'è questo questo nodo in gola che comunque è questo catarrino che si ferma lì ha portato anche il come si chiama nel naso il sondino perché non riusciva a deglutire a suo tempo allora anche quello irrita e produce catarro certo però adesso non ce l'ha più dottore non ce l'ha no l'ictus l'ha avuto nel 2018 però lei ha sempre questo fastidio allora nel limite del possibile farle bere tanta acqua perché l'acqua assoglie il catarro eventualmente darle anche una mustina al mattino dopo colazione di Flui Fort Flui Fort mustine una mustina al mattino e poi fare dei lavaggi nasali con dello Yalo Clean lo spray nasale a base di acqua marina e acido ialuronico dica signora noi facciamo già i lavaggi quelli dei bambini fisiologico diciamo ma la fisiologica non ha l'azione antinfiammatoria che ha l'acido ialuronico quindi va bene per i bambini piccoli ma in un soggetto adulto è un po' poco è come andare a spegnere un incendio con un secchiello capisci? e allora i soldi perché spende nella fisiologica li spenda nello Yalo Clean che è uno spray nasale ripeto a base di acqua marina e acido ialuronico uno spray nasale? ok si lo usa 3 4 anche 5 volte al giorno 4 5 volte al giorno per 15 20 giorni al mese ho capito e farle bere molta acqua si che lei abbia sempre un'acqua che cola eccetera è quello questo può essere una conseguenza del sondino sondino comunque catarro lei chiaramente con i problemi che ha avuto magari non soffia bene il naso non riesce a eliminarlo quindi anche la pomata di cicatridina può andare bene nel naso magari alla sera prima di andare a dormire cicatridina pomata grazie grazie allora la nostra telespettatrice 011 060 0643 per le vostre telefonate 331 4480 522 per i vostri messaggi come questo che andiamo a leggere buongiorno faccio bene a tenere sempre la mascherina anche all'aperto ormai vengo guardato quasi come un extraterrestre in centri e frangenti soprattutto quando passeggio in centro Angelo 32 anni da Torino praticamente quello che diceva prima dottor Capricci ribadiamo il concetto insomma ripeto il concetto di prima cioè la mascherina è di notevole utilità e quindi e vedrà che il governo non stabilirà ancora di toglierla quando farà un decreto e dirà di togliere la mascherina ma fino adesso non si assumono questa responsabilità il rischio c'è per cui se la gente lo guarda o se qualcuno le dice qualcosa le dica di fare un salto in ospedale di andare a vedere ancora quelli che sono ricoverati o di parlare con qualcuno che ha avuto il problema sacro santo abbiamo una telefonata dal dottor Capricci pronto niente non ce l'abbiamo più allora 011 060 0643 per le vostre telefonate 331 4480 522 per sms whatsapp abbiamo sì adesso sì una telefonata pronto pronto buongiorno come si chiama e da dove chiama mi chiamo beccaio Bruno Bruno deve abbassare l'audio del televisore a zero per favore lo abbassi completamente a zero faccia la domanda dal telefono buongiorno 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 a lei io ho un appuntamento con lei a ottobre di quest'anno a ottobre penso di essere operativo devo rifare di nuovo no a ottobre mi auguro proprio di sì insomma sia per la mia salute che per gli ambulatori prevedono di riaprirli già in parte a luglio ma direi che da settembre sono tutti operativi quindi se lei ha la portazione a ottobre devo rifare la portazione no è già prenotato vada tranquillo perfetto assolutamente adesso non so dirle il giorno che giorno è ottobre aspetti che io lo dico il 12 proprio con lei 12 12 ottobre e allora sarà o lunedì o un giovedì sì sicuramente io visito lunedì o giovedì nessun problema ci sono almeno rivedersi e grazie dovrei esserci buongiorno grazie magari allora il dottor Capricci visiterà questo spettatore e dopo si collegherà in diretta per fare la trasmissione buongiorno dottore sarebbe un ottimo passaggio di testimone allora abbiamo un messaggio buongiorno dottore da un mese che ogni mattina mi sveglio con un fastidio al naso mi viene da starnutire e soffiarmi il naso il mio medico curante mi ha dato un antistaminico e non passa mi ha anche prescritto una visita allergologica Luisa 50 anni sì io farei la visita allergologica tenga conto di farla però quando ha sospeso l'antistaminico almeno da 7-10 giorni perché se poi le fanno dei test allergologici questi sono inaffidabili oppure non li rifanno perché deve lasciare un lasso di tempo però io farei anche un controllo dall'otorino perché il problema potrebbe essere collegato a una forma di rinite cronica anche magari legata a una sinusite quindi a non fattori allergici ma a fattori sinusali dottor Capricci abbiamo una telefonata pronto sì è pronto buongiorno dottor Capricci sono Elena da Torino buongiorno 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 a lei le telefonavo per avere un'informazione per quanto riguardava la relazione eventualmente tra un'informazione di semi paranasali e un'eventuale ipocrisia improvvisa ci potrebbe essere una relazione no una relazione direi di no nel senso che la sinusite può dare dei problemi di catarro all'orecchio e quindi con il rischio di un'infezione di un'otite di una tubo timpanite quindi di una sordità che può comparire all'improvviso ma ha dei segnali che a volte vengono trascurati un orecchio magari un po' più un senso di ovattamento queste cose qua la sordità improvvisa è diversa la sordità improvvisa compare all'improvviso e di solito non è su base catarrale ma è su base o virale o circolatoria capisce? può la sinusite il catarro nell'orecchio predisporre perché può indebolire l'orecchio al massimo la diciamo il il fattore concomitante può essere quello ma non c'è una correlazione tra la sinusite e la sordità improvvisa perché in termini di percentuale è veramente ridottissima considerata la percentuale di persone che hanno una sinusite cronica acuta suba abbiamo a singhiozzo in questo momento il dottor massimo capricci vediamo se riusciamo a recuperarlo io avevo non so se ci sono altri messaggi se no avevo una specie di provocazione per lui ma quello dopo abbiamo una telefonata allora proviamo a raccogliere la domanda e poi girarla eventualmente al dottor capricci pronto? pronto buongiorno buongiorno come si chiama? da dove chiama? sono Nina di Mirafiore sì Torino quindi va bene io vi saluto e vi ringrazio di tutto quello che fate per noi faccio tanti auguri al dottore che si trova nelle condizioni come me ma io lui c'è un'altra cosa e io c'ho invece perché ho avuto l'ebolia polmonale quindi ora ci parte notte e giorno e cose varie quindi sono disperata anch'io cioè diciamo che il muscolo ce l'ho pure io come ce l'ha lui dei problemi e il resto non posso dirlo perché sono già emozionata e non riesco a parlare più comunque lo ringrazio mi ascolto sempre grazie 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 signora se non ha allora se non ha una domanda precisa comunque riferiamo al dottor Capricci anche perché anche il suo problema è serio signora grazie per averlo segnalato naturalmente auguri e in bocca al lupo gli rifarà magari anche il dottor Capricci se riusciamo a recuperare il collegamento con il nostro otorino la ringoiatra il dottor Massimo Capricci dell'ospedale Molinette di Torino mi dicono ancora no allora prendiamo un'altra telefonata pronto? sono sempre Elena perché prima è caduta la linea quindi non sono riuscita a parlare con il dottor Capricci però adesso non c'è quindi non lo so mi dica lei perché era il discorso della sinusita il fatto di avere comunque questo senso di oppressione a una narice quindi il fatto di non riuscire a respirare quando mi sveglio al mattino volevo sapere appunto se c'era comunque un nesso con questa problematica o che comunque che cosa fare per capire di che cosa si tratta quindi lei dice il fatto di riuscire a respirare non riuscire a respirare al mattino sì perché sembra che sia collegato con l'orecchio perché anche toccando l'orecchio sembra a volte che si come si stappasse o avesse necessità di stapparsi per quello che chiedevo se c'era una relazione tra questa sensazione di ostruzione appunto naso chiuso e questo appunto ipocrisia all'ospettore d'accordo signora allora guardi c'è un problema però la teniamo lì la domanda perché non abbiamo il dottor Capricciano più che altro per noi è anche arrivato il momento di chiudere quindi grazie ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici anche rigiriamo gli auguri e i saluti da parte della signora da Torino però adesso per noi è arrivato il momento di salutarci grazie a tutti dunque per i tanti interventi di quest'oggi grazie naturalmente allo Torino la ringoiatra dottor Massimo Capricci in bocca al lupo per la sua riabilitazione è tutto grazie dunque per averci seguiti tra poco non perdete la diretta di Parliamone buona giornata grazie a tutti